L'argomento della lezione di oggi è l'organizzazione che Napoleone ha dato allo Stato una volta diventato imperatore di tutti i francesi. Andiamo a vedere un pochettino quali sono, ora in maniera sintetica e poi in corso di questa lezione in maniera un po' più dettagliata, le riforme che Napoleone ha messo in campo. Sono riforme che riguardano l'ambito dell'amministrazione, la giustizia e il diritto, l'istruzione e le finanze. Queste riforme avranno come scopo quello di garantire, come abbiamo detto in un'altra videolezione, quella serenità sociale e quindi rassenenare il campo in ambito sociale. Allora andiamo a vedere un pochettino la natura di queste riforme, partiamo dall'ambito amministrativo. Assistiamo, e questo è un principio che vale anche in altri campi, a una fortissima centralizzazione di tutte le attività e di tutti i poteri. E anche l'ambito amministrativo ovviamente è fortemente centralizzato. Napoleone costituisce un'organizzazione amministrativa che fa capo esclusivamente a lui e alle persone a lui collegate e che ha appunto nella città di Parigi il centro di questa straordinaria macchina organizzativa. Nelle periferie, di fatto, il rappresentante più diretto dello Stato è il prefetto. Vediamo un po' quali sono le caratteristiche di questo prefetto. Innanzitutto il prefetto è nominato dal ministro degli interni e è nominato in base alle sue competenze, al merito e alla fedeltà al governo. Si parla qui di un procedimento che Napoleone aveva già applicato in ambito dell'esercito e cioè dell'amalgama, su cui torneremo anche nella parte finale di questa video-lezione. E cioè le persone non vengono scelte in base all'ordine sociale di riferimento oppure non ci sono posti riservati per la nobiltà, sia essa di toga o di spada, ma in base soltanto alle competenze e al merito e alla fedeltà al governo. Quindi si tratta di una scelta di persone capaci. Il prefetto di fatto è il capo di dipartimenti, cioè di quelle sorte di regioni, possiamo così chiamarle, in quale la Francia viene divisa. E in queste regioni, in questi dipartimenti, il prefetto è il rappresentante proprio del potere centrale, il rappresentante cioè della Francia. Ovviamente è sua competenza l'applicazione delle leggi in modo uniforme su tutto il territorio. Questo è un principio interessantissimo. Cioè il prefetto deve vigilare che la legge dello Stato sia applicata in maniera rigorosa e uguale e uniforme su tutto il territorio nazionale, facendo in che modo? Praticamente facendo in modo che nel proprio dipartimento, nel dipartimento, cioè da lui presiduto, la legge sia applicata secondo le norme più stringenti. Quali sono le competenze, le aree di riferimento del prefetto? Si deve interessare ovviamente di ordine pubblico, ovviamente dell'aspetto finanziario, quindi delle imposte dirette e indirette, vedremo poi successivamente, e ovviamente deve far rispettare l'obbligatorietà della leva militare. E arriviamo alla riforma della giustizia, un altro capitolo particolarmente importante. L'imperatore dei francesi, cioè Napoleone, ha il compito di nominare i magistrati. E questo è un fattore che ha creato qualche problema, o che sicuramente li crea oggi ai giuristi e ai costituzionalisti, perché non è una procedura questa di uno Stato che oggi noi chiamiamo democratico. Nello stesso tempo però la riforma della giustizia di Napoleone prevede i tre gradi di giudizio, qualcosa che ricorda quello che c'è anche oggi nei Stati democratici, cioè una prima istanza, un primo processo, l'assise, un secondo grado di giudizio e l'appello finale. Per quanto riguarda un capitolo legato in qualche modo all'ambito della giustizia, cioè quello del diritto, dobbiamo segnalare un'innovazione notevole che Napoleone ha portato in questo campo. Ma dobbiamo innanzitutto vedere che cosa c'era prima di questa riforma del diritto portato avanti da Napoleone. In Francia c'erano fondamentalmente tre diritti, il diritto canonico e quindi quello della Chiesa, il diritto consuetudinario, cioè una serie di norme che non avevano validità di legge ma che erano applicate per consuetudine e quindi di fatto, insomma, anche perché erano già state applicate precedentemente, avevano portato tutto sommato dei buoni frutti e c'era il diritto reggio. Ecco, Napoleone cancella completamente questi tre diritti e riafferma, e questo è uno dei punti di forza, la certezza e l'unicità del diritto. Così come abbiamo visto in ambito amministrativo una fortissima centralizzazione di tutta la macchina amministrativa che faceva capo appunto a Napoleone e poi ovviamente ai prefetti che dovevano in qualche modo applicare le leggi in maniera uniforme, allo stesso modo in ambito più strettamente del diritto si parla di una certezza e quindi una norma ben chiara e soprattutto un punto di riferimento, il codice di cui parleremo noi oggi, che semplifica i tanti diritti che precedentemente c'erano in Francia, creando anche non solo confusione ma anche problemi di attribuzione della stessa questione ai diritti specifici. Quindi una certezza e l'unicità del diritto, cioè un unico codice, un unico diritto con dei principi estremamente rigorosi. Nel 1804 infatti viene promulgato il codice civile in materia privata che in parte riprende quelle che sono state alcune istanze della rivoluzione francese ma non sempre. Napoleone scommette moltissimo sull'istruzione perché vuole che uscendo dal sistema scolastico i ragazzi diventino dei funzionari efficienti e preparati, competenti e per fare questo prevede tre momenti fondamentali. Una scuola elementare che già c'era naturalmente e che come prima della rivoluzione francese viene affidata al clero e in questa circostanza, in questo settore, in questo momento della vita del ragazzo che Napoleone permette anche una sorta di istruzione religiosa. Un secondo momento, i licei di Stato, licei organizzati secondo il modello militare, quindi il liceo è un collegio un luogo in cui si passa non soltanto il giorno ma si dorme anche la notte caratterizzato da una rigidissima disciplina ammessi a questi licei sono soltanto i ragazzi quindi studenti maschi le discipline umanistiche sono l'asse portante e vengono arricchite anche dalla conoscenza e dall'insegnamento del latino e del greco ma anche la matematica e la fisica sono presenti in questa rosa di discipline che venivano impartite in questi licei. di fatto nei licei l'insegnamento di religione è completamente scomparso. L'aspetto più interessante è invece il terzo momento. L'università già c'era precedentemente a origini medievali ma di fatto è la riforma dell'università e delle grandi scuole volute da Napoleone l'elemento su cui noi punteremo l'attenzione in particolare sulle grandi scuole in particolare sulle scuole politecniche in ambito di ingegneria e tecnologia su cui Napoleone scommette molto i suoi futuri funzionari o anche generali, soldati devono essere ben preparati in queste scuole tecniche cioè per esempio in ambito ingegneristico e in ambito tecnologico. Interessanti sono le riforme finanziarie che Napoleone ha messo in campo ma prima di andare a analizzare i principi delle riforme finanziarie di Napoleone andiamo a vedere qual è la situazione che Napoleone ha ereditato. era una situazione abbiamo già avuto modo di dirlo più volte veramente critica una svalutazione della moneta figlia di un'inflazione incredibile un debito pubblico altissimo che la Francia si porta dietro non soltanto dal periodo rivoluzionario ma ben prima a questa situazione precedente veramente drammatica Napoleone interviene con ancora una volta degli interventi centralizzati abbiamo visto la centralizzazione come elemento fondamentale in amministrazione e in giustizia ma anche nelle finanze la centralizzazione prevede una banca di Francia l'unica che può emettere la nuova moneta il franco germinale che diventa appunto la nuova moneta della Francia questa centralizzazione di tutte le risorse finanziarie serviva a Napoleone per controllare meglio i flussi di denaro e quindi ovviamente l'organizzazione finanziaria dello Stato ma accanto a questi interventi centralizzati c'erano ovviamente delle misure fiscali queste misure fiscali riguardavano innanzitutto i dazzi sulle importazioni quindi un sistema protezionistico per permettere alle imprese francesi di crescere e crescere anche meglio i prodotti francesi di poter essere ovviamente più competitivi rispetto ai prodotti che venivano dall'estero nello stesso tempo assistiamo a una riduzione delle tasse indirette e invece un aumento una reintroduzione delle tasse indirette sui consumi e queste misure sono ovviamente figlie del bacino sociale di riferimento di Napoleone e cioè sono misure in qualche modo e vanno a privilegiare la borghesia affaristica di espomenti delle professioni notabili di ufficiali e la nuova classe dei burocrati queste riforme amministrative, finanziarie di istruzione della giustizia avevano come scopo l'abbiamo detto anche all'inizio di questa video lezione la stabilità sociale Napoleone era visto come dai francesi come il garante di questa stabilità sociale e allora proviamo un pochettino a riassumere non tanto queste riforme ma riassumere le conseguenze delle riforme che abbiamo già visto evidentemente l'amalgama ha permesso non soltanto di costituire una classe di funzionari competenti ma di amalgamare, mischiare, unire appunto persone appartenenti a ceti diversi e ovviamente questo è un elemento di fortissima coesione sociale se ben indirizzato ma l'amalgama è solo uno degli aspetti fondamentali abbiamo visto la fortissima centralizzazione e porta una conseguenza o comunque in qualche modo è figlia essa stessa di un autoritarismo che diventa sempre più soffocante soprattutto nei confronti delle opposizioni era veramente molto difficile avere un pensiero diverso da quello di Napoleone e questo grazie anche a un controllo capillare della polizia e a un ricorso allo strumento pubblicitario l'abbiamo già visto in un'altra video lezione che serviva proprio per in qualche modo legare il popolo alla figura di questo grande leader e quindi possiamo in qualche modo dire che è vero che alcune misure non sono accettabili in una società democratica come l'autoritarismo come questa polizia ingombrante e onnipresente come il ricorso populistico allo strumento pubblicitario però possiamo dire che queste riforme alla fine furono accettate dalla maggioranza dei francesi perché di fatto la maggioranza dei francesi riesce a vedere in Napoleone colui il quale può dare una stabilità sociale quindi queste riforme ancorché non del tutto democratiche accettabili in un paese democratico in effetti hanno portato il consenso e l'opinione pubblica ai francesi che tutto sommato hanno accettato anche questa riduzione di alcune libertà che avevano ottenuto in un corso di riduzione francese pur di avere una maggiore stabilità sociale vera e propria e una crescita economica che comincia a palesarsi in questo periodo per esempio viene tutelata l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge come appunto voleva la rivoluzione francese viene assicurata l'abolizione dei privilegi feudali anche questo in riferimento a uno dei provvedimenti uno dei primissimi provvedimenti presi appunto dall'assemblea qualche mese dopo la rivoluzione francese vera e propria viene tutelata la libertà di coscienza viene sancita l'autonomia dello Stato dalla Chiesa e su questo ci siamo tornati in una precedente video lezione viene tutelata la proprietà privata e quindi evidentemente si sposa un approccio diverso rispetto a quello voluto in una fase della rivoluzione francese esanculotti o estremismo in qualche modo di una parte i giacobini e quindi viene rinnegato il principio di abolizione una proprietà privata come anche suggerito da Rousseau e viene tutelata la libertà di impresa cioè da parte di chi appunto fa impresa da parte appunto dei datori di lavoro mentre non sono per niente presenti in questo codice i diritti dei lavoratori in effetti tutto sommato sembra un codice molto moderno ma è anche un codice abbastanza conservatore allo stesso tempo e in particolar modo è conservatore per quanto riguarda lo specifico diritto di famiglia è vero che viene abolito il diritto di primogenitura quindi dando la possibilità di diciamo spalmare in maniera uniforme l'eredità ai propri figli ma nello stesso tempo le differenze tra marito e moglie e quindi tra uomo e donna di fatto sono non così moderne come invece ci si aspettava per esempio il marito ha il potere legale sui figli va bene anche sulla moglie e proprio del marito la gestione del patrimonio familiare ed è una gestione esclusiva quindi il marito gestisce il proprio patrimonio e la dote che la moglie riporterà in dono ovviamente una norma che tutela il marito è quella del divorzio norma che vedremo è presente anche come un diritto della moglie ma di fatto con clausole molto differenti addirittura il marito in caso di tradimento conclamato a parte la moglie può anche rinchiudere la moglie stessa in casa insomma in una sorta di prigionia la moglie deve al marito l'obbedienza deve seguire il marito in caso di trasferimento del marito per esigenze lavorative e come diciamo prima pur avendo il diritto di divorziare di fatto se il divorzio è richiesto dalla moglie avrà delle clausole molto diverse da quelle che avrebbe avuto il marito in caso di richiesta da parte del marito di divorzio per cui tutto sommato possiamo dire che se da una parte vengono ripresi alcuni principi propri della rivoluzione francese e dall'altra quell'idea di donna oltre che in questo caso di moglie ma più in generale di donna che aveva gli stessi diritti quindi l'uguaglianza dell'uomo e cioè quell'uguaglianza di tutte le persone e di tutti gli individui ecco quella parte tanto proclamata è uno dei principi fondamentali della rivoluzione francese delle giornate almeno del luglio della rivoluzione francese quindi della prima fase della rivoluzione francese e questo queste istanze invece non trovano ripercussione quindi non vengono accolte in questo codice napoleonico